Assessore Colantonio, torna a nuova vita la zona di via dei Tintori a Chieti? Sì, oggi chiaramente ricorrono i 20 anni dal crollo fatale che ebbe questa zona di Chieti e in questi anni sono stati fatti molti investimenti, soprattutto anche grazie a dei finanziamenti pubblici che hanno permesso di regolarizzare i consolidamenti di questa zona. Noi in questi ultimi quasi cinque anni abbiamo chiaramente creato la fruibilità di questo ipogeo che è uno dei più visitati a Chieti, grazie a un'associazione che la gestisce volontariamente e dopodiché noi abbiamo fatto gli investimenti sia per creare e dotare la piazza sovrastante di tutte le dotazioni per poterne fruirne. Abbiamo realizzato il risanamento conservativo, la riqualificazione di tutta via dei Tintori che conteremo di aprire verso la fine di dicembre e con un bel lavoro architettonico con un finanziamento comunitario proprio perché la zona meritava e dopodiché abbiamo chiesto alla Regione un finanziamento per definire i tre appartamenti di proprietà del Comune perché quando ci fu il crollo il Comune risanò la zona e acquisì al proprio patrimonio degli appartamenti che furono abbandonati e quindi anche quegli appartamenti potrebbero ritornare utili alla collettività perché potrebbero essere consegnati a canoni agevolati alla cittadinanza.